Ma quanto c'è della nostra tradizione culinaria partenopea nella tradizione del teatro e anche dell'arte? Un mondo di sapori e di sensazioni che vanno oltre al gusto, oltre al palato, ma che si confondono con l'ingegno e con la scena. La convivialità della tavola e a contempo anche la magia che restituisce il palcoscenico si uniscono così per dare vita ad un nuovo format così titolato La cucina nel teatro e nella poesia a Napoli, dallo street food di Viviani al ragù di Edoardo, ideato e condotto da un amico di Mattina Live. Diamo il buongiorno a Giuseppe Giorgio, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Beh, molto affascinante questo format, entriamo nel vivo, ma soprattutto diciamo a pubblico che tu sei critico teatrale, esperto di enogastronomia, hai deciso di unire le tue personali passioni per raccontare le peculiarità del nostro patrimonio culturale passando dal teatro alla poesia e ai sapori della tradizione. Come nasce questo progetto? Ti chiedo in che modo si snoderanno anche i tuoi incontri o spettacolo? Sì, è un progetto che è nato già qualche anno fa e che ho messo a punto e che ho perfezionato durante il tempo. A tratto al fatto che in tutte le opere teatrali napoletane, ma già a partire dagli autori del Seicento, parlo del Basile, parlo di Giambattista Porto, eccetera, il collegamento tra la cucina, quindi i piatti identitari della nostra città di Partenum, si sono sempre uniti alle opere teatrali, alle poesie, ai versi dei maggiori esponenti sia della letteratura che delle opere teatrali. Per cui per Napoli, città da sempre di sapori, terra di arte, terra di cultura, l'unire i piaceri della tavola ai piaceri del teatro, ai piaceri della poesia è stato un fatto per così dire da sempre presente nel DNA degli autori. Oltretutto mi sono appassionato nell'osservare come i piatti nelle opere dei grandi artisti napoletani, parlo di canzonieri, di poeti, di commediografi, eccetera, come i piatti identitari della cucina napoletana hanno rappresentato un ruolo fondamentale nelle euroopere fino a diventare quasi delle vere e proprie protagonisti di queste commedi. Protagonisti assoluti. Infatti, intanto qui vediamo con insomma alle nostre spalle anche dei grandi nomi della scena teatrale musicale italiana che accompagneranno questo momento di percorso multisensoriale. Esatto, sì, con me ci saranno attrici che di volte in volte cambieranno, con me sicuramente ci sarà un'attrice, nipote d'arte come Ingrid Sansone e poi l'abbiamo vista qua in fotografia con me, un'attrice che non ha bisogno di presentazione come Antonella Morea. Con me porteremo insieme tra il pubblico nei vari teatri napoletani, in alcuni teatri napoletani posso anticipare il nuovo teatro San Carluccio, il teatro Cortese, il teatro Officine e così via, questo format che prende gli spettatori quasi per mano e li accompagna in un percorso diviso tra le canzoni, il teatro e le specialità della cucina tipica. Iconiche, esatto. L'elemento del convivio è sicuramente da tempo fonte di confronto, anche fonte di ispirazione. Basti pensare, lo ricordavi prima tu, alle leggendarie compagnie che appunto facevano del convivio di quel momento della tavola la protagonista assoluta della scena, come ad esempio Miseria e Nobiltà. Chi non ricorda quella scena? Sicuramente, Miseria e Nobiltà attraverso scarpetta, quella come dire, emblematica zuppiera di maccheroni rappresenta la rivincita dei poveri siuricchi. Là siamo già giunti all'avvento della pasta essiccata, quindi dal popolo dei mangiamaccheroni perché fino a poco tempo prima i napoletani venivano chiamati mangiafoglie in quanto si bavano solo di broccoli e verduri. Però col popolo di mangiamaccheroni e con l'invenzione, la scoperta di questa pasta secca, ossia che poteva essere consumata nel tempo, senza che si deteriorasse, diciamo che i poveri si prendono una rivincita sui ricchi e quindi anche in Miseria e Nobiltà, il momento della tavola, il momento in cui i poveri riescono finalmente a mettere qualcosa sotto i denti, si trasforma in un momento di sublimazione non solo interiore e spirituale. Poi anche in seguito i piatti iconici della cucina napoletana e anche il momento della tavola sempre rappresentato. Un punto di riferimento, infatti l'arte da grande schermo a teatri e anche alla scrittura si è sempre ispirata alla tradizione culinaria e anche i grandi nomi come Totò ma anche il maestro Edoardo hanno sempre il risumaggio tramandando appunto la nostra tradizione, sabato, domenica e lunedì per esempio. Sì esattamente, il sabato e domenica. Ancora tanti altri, potremmo citarne davvero tanto con un bagaglio davvero corposo. Certo, Edoardo De Filippo, ecco hai nominato giustamente dopo Totò il grande Edoardo De Filippo, lui dà un ruolo fondamentale sia al momento della tavola sia ai piatti. Ad esempio nella commedia il sindaco del Rione Sanità, il boss della situazione, il sindaco Antonio Barragano, anche in punto di morte non rinuncia al suo ruolo di capotavolo, quindi al suo ruolo di dominio nei rispetti dei commensali. Ancora hai nominato sabato, domenica e lunedì per Rosa Priore la proponista. Diventa un motivo di litigio. Il ragù, questo famoso ragù anche citato da Edoardo in una sua famosa poesia, diventa un motivo esistenziale, un motivo di rivincita personale nei riguardi di una famiglia che rischia la divisione. Infatti Edoardo con il momento della convialità, il momento della tavola, lui cerca in maniera profetica di mostrare quanto però sia importante l'unione della famiglia perché anche attraverso il momento della tavola Edoardo è stato profetico perché ha anticipato i tempi nell'osservare quello che poi è stato il crollo del matrimonio inteso come istituzione. Esatto, intanto incontri spettacolo che ti vedranno insomma come protagonista ma soprattutto come traghettatore tra la storia e il futuro e diventa anche un motivo per ricordare le meravigliose strofe della poesia in lingua napoletana ma per mostrare anche i luoghi iconici della nostra città, attraverso i lusti di preziosi teatri, posso chiederti quali strofe ma anche quali luoghi ammireremo? Ma sicuramente noi ci ritroveremo innanzitutto in questo viaggio immaginario insieme al pubblico dapprima nella Napoli del 600, la Napoli di Porta Capuana, la Napoli di Porta Nolana, poi ancora andremo avanti nel tempo fino a trovarci in quella Napoli bucolica che era rappresentata dal Vomero, l'Antignano ancora ricoperta di verde e la famosa poesia che la descrive Maggina Tavernella di Salvatore di Giacomo, ancora andremo avanti nel tempo fino a raggiungere la tradizione della pizza o anche il racconto del caffè, torniamo sempre al maestro Edoardo e ancora... Esatto, i venditori, le friggitorie come la famosa Onnamalia Speranzella di Giacomo e così via Cosa non deve mancare secondo te sulla tavola di una tipica famiglia napoletana? Ma ci sono tante le cose che non devono mancare nella tavola della famiglia napoletana, prima diciamo che si riusciva a stabilire il giorno in base al profumo che proveniva dalle case ma diciamo ancora oggi il piatto emblematico, secondo me il ragù, rimane il ragù che non deve essere confuso come diceva Edoardo con la carne capumarola Che è un'altra cosa È un'altra cosa Sicuramente per le nuove generazioni di artisti è importante mantenere viva la tradizione senza dimenticare il passato di Napoli, in quest'ottica l'innovazione senza memoria perderebbe quel po' di sapore? Ma sicuramente l'innovazione, sì benvenga l'innovazione però la memoria, diciamo che tutto proviene anche sempre dal passato, per cui un futuro sì ma rispettoso delle tradizioni e delle antiche usanze di un popolo che ha fatto anche della cucina un'arte e anche di ingredienti poveri come la farina, l'acqua, il pomodoro delle specialità che sono diventate anche patrimonio UNESCO e parlo della pizza Grazie di essere stato con noi, allora parliamo di questo format tutto da assaporare ovvero la cucina nel teatro e nella poesia a Napoli, dallo street food di Viviani al ragù di Edoardo Grazie al nostro giornalista Giuseppe Giorgio per avercelo presentato e complimentissimi Noi ci ritroviamo fra pochissimo, piccolo break Grazie a voi Grazie a voi